La piccola roc Iprocaccia, Medric Rompelle, che i paesani familiarmente chiamavano Mede, partì alla solita ora dall'ufficio postale di Roy Lethor, attraversò la cittadina coi suoi lunghi passi di vecchio soldato, tagliò per i campi di Villom per giungere sulla riva della Brindill da cui, seguendo la corrente, arrivava al villaggio di Carvelin dove cominciava la distribuzione. Camminava alla svelta lungo il fiumicello che spumeggiava, brontolava, ribolliva e correva nel suo letto erboso sotto una volta di salici. I grossi ciottoli, fermando la corrente, creavano attorno a sé un tonfo rigonfio d'acqua, come una cravatta che finiva in un nodo di schiuma. Poi là c'erano cascate alti a un piede, talvolta invisibili, che facevano sotto le foglie, sotto le liane, sotto un tetto di verzura, un chiasso i rose dolce. Più oltre le sponde si allargavano, si incontrava un tranquillo laghetto, nel quale le trote guizzavano in mezzo a quei lunghi capelli verdi che ondeggiavano in fondo ai luccelli calmi. Medrick camminava senza vedere nulla, pensando soltanto a questo. La prima lettera è per i povron, e dopo ne devo portare una al signor Renardè, perciò bisogna che traversi il bosco. Il suo camiciotto turchino, stretto alla vita da una cintola di cuoio nero, passava con moto svelto e regolare sulla siepe verde dei salici. Il suo grosso bastone di acrifoglio gli camminava accanto come un'altra gamba. Traversò la brindilla, poi il ponte, fatto con un solo tronco d'albero gettato da una sponda all'altra, che aveva come ringhiera una corda stretta da due paletti piantati per terra. Il bosco, proprietà di Renardè, sindaco di Carvelen e il più grosso possidente di quei luoghi, era pieno di alberi antichi, enormi, ritti come colonne, che si stendevano per una lunghezza di due chilometri sulla riva destra del ruscello che faceva da confine all'immensa volta di foglie. Lungo il corso dell'acqua erano spuntati due grandi arbusti sotto i raggi del sole, ma sotto il bosco non si trovava altro che muschio, un muschio spesso, dolce e morbido, che spandeva nell'alia stagnante un odorino di muffa e di rame morti. Mederic rallentò l'andatura, si levò il berretto nero ornato di un gallone rosso, si asciugò la fronte, già faceva caldo in campagna, benché non fossero ancora le otto di mattina. Sare appena rimesso in capo il berretto, riprendendo la sua marcia energica, allorché vide ai piedi di un albero un coltellino da ragazzi. Lo stava raccattando quando vide anche un ditale e vicino a questo una scatolina per aghi. Li prese e pensò, riporto dal sindaco, poi si rimise in marcia ma teneva gli occhi aperti, aspettandosi di trovare qualche altra cosa. Improvvisamente si fermò di botto, come se avesse urtato contro una stanga di legno. A dieci passi davanti a lui, supino, giaceva sul muschio un corpo infantile, completamente nudo. Era una bambinetta che avrà avuto dodici anni. Stava a braccia aperte, a gambe larghe, col viso coperto da un fazzoletto. Aveva le cosce macchiate di sangue. Mederich cominciò a camminare in punta di piedi, come se avesse paura di far rumore, oppure avesse temuto qualche pericolo. Le spalancava gli occhi. Che era mai quella roba? Di certo stava dormendo, ma poi pensò che nessuno si mette a dormire nudo alle sette e mezzo di mattina sotto il fresco degli alberi. Allora era morta. E quello era un delitto. A quell'idea un brivido gli corse per la schiena, benché egli fosse un vecchio soldato. Era così raro un omicidio nel paese. E poi l'omicidio di una bambina che non riusciva a credere ai suoi occhi. Però non aveva nessuna ferita tranne quel sangue coagulato sulle gambe. In che modo era stata uccisa? Si fermò vicino a lei e la guardò appoggiato al bastone. La conosceva di certo perché conosceva tutti gli abitanti del luogo, ma non potendola vedere in viso non poteva sapere chi era. Si chinò per levare il fazzoletto dalla faccia, ma si fermò con la mano stesa, trattenuto da un pensiero. Aveva il diritto di muovere qualcosa dal cadavere prima che la giustizia avesse fatto le sue constatazioni. Per lui la giustizia era come una specie di generale al quale non sfugge nulla e che dà uguale importanza a un bottone perduto e a una coltellata nella pancia. Forse sotto quel fazzoletto si sarebbe trovata una prova essenziale. Comunque era un corpo del reato e poteva perdere il suo valore se toccato da una mano maldestra. Allora volle rialzarsi per correre dal sindaco, ma fu trattenuto da un altro pensiero. Se per caso la bambina fosse ancora viva, non avrebbe potuto abbandonarla in quel modo. Pianino pianino si mise in ginocchio, ma tenendosi lontano per prudenza, e stese una mano verso il piede di lei. Era freddo, gelato da quel terribile freddo che rende spaventevole la carne morta e non lascia più dubbi. Dopo averla toccata, il procaccia come raccontò dopo, si sentì sotto sopra con la bocca completamente asciutta. Si alzò di scatto e cominciò a correre sotto gli alberi verso la casa del signor Renardet. Andava a passo svelto col bastone sotto braccio, i pugni stretti, il capo proteso, mentre il sacco di cuoio, pieno di lettere e giornali, gli batteva ritmicamente sulla schiena. La casa del sindaco era all'estremità del bosco che gli faceva da parco e bagnava tutta una parte dei suoi muri in un piccolo stagno formato in quel punto dalla brindill. Era una casona quadrata, di pietra grisa molto antica, che un tempo aveva anche subito degli assedi e finiva in un'enorme torre, alta 20 metri, costruita nell'acqua. Dall'alto di quella specie di cittadella un tempo si sorvegliava tutto il paese. La chiamavano chissà perché Torre della Volpe e da quell'appellativo senza dubbio era derivato il cognome Renardet, portato dai proprietari del feudo, rimasto alla stessa famiglia per più di 200 anni. Infatti i Renardet appartenevano a quella borghesia quasi nobile che spesso si incontrava in provincia prima della rivoluzione. Il procaccia entrò di volata nella cucina dove la servitù stava mangiando, gridando «è alzato il signor sindaco! Gli devo parlare subito!». Siccome Mederic era conosciuto come una persona seria e riflessiva, capirono subito che era accaduto qualcosa di grave. Il sindaco avvertito ordinò che lo facessero entrare. Pallido e ansimante, il procaccia col berretto in mano trovò il sindaco seduto davanti a una lunga tavola coperta di fogli sparpagliati. Era un omaccione grande e grosso, pesante, rosso, forte come un toro, assai ben voluto in paese, nonostante il suo carattere straordinariamente violento. Avrà avuto una quarantina d'anni, era vedovo da sei mesi e viveva sulle sue terre, da gentiluomo campagnolo. Col suo carattere focoso si era spesso immischiato in spiacevoli storie da cui sempre lo traevano fuori i magistrati di Ruil e Thor, suoi amici indulgenti e discreti. Un giorno aveva buttato giù dal sedile il guidatore della diligenza perché stava per schiacciare il suo cane da ferma, Micmac. Un'altra volta aveva rotto le costole a un guardia cazza che gli voleva far la contravvenzione perché stava attraversando col fucile sotto il braccio le terre ad un vicino. Un'altra volta aveva preso per il colletto il sottoprefetto fermandosi nel villaggio durante un viaggio amministrativo che Renardet voleva definire viaggio elettorale. Egli infatti faceva l'opposizione al governo per tradizione familiare. «Cos'è successo, Mederic?» chiese il sindaco. «Ho trovato una bambina morta nel vostro bosco». Renardet si rizzò col viso infuocato. «Come? Una bambina?» «Sì, signore. Una bambina tutta nuda, supina, sporca di sangue. È morta, proprio morta!» Il sindaco bestemmò. «Per Dio! Scommetto che è la piccola Rocca. Mi sono venuti a dire proprio ora che ieri sera non è tornata a casa. Dove l'avete trovata?» Il brocaccia spiegò tutto, fornì particolari, si offerse di far da guida. Ma Renardet gli rispose bruscamente. «No, non ho nessun bisogno di voi. Mandatemi subito alla guardia campestre, il segretario comunale e il dottore, e andate a finire il vostro giro. Via via! Andate! E dite che mi raggiungano nel bosco!» Disciplinato, il brocaccio obbedì e se ne andò, furibondo e dispiaciuto di non poter assistere alle constatazioni. Anche il sindaco uscì, dopo aver preso il suo cappellone di feltro grigio, molle, a tese larghissime, e si fermò per qualche istante sulla soglia di casa. Davanti a lui si stendeva un ampio prato, nel quale splendevano tre grandi macchie, di color rosso turchino e bianco, tre aiuole di fiori sbocciati, una di fronte alla facciata, le altre sui fianchi. Più in là si rizzavano fino al cielo i primi alberi del bosco, mentre a sinistra, oltre alla brindil allargata in stagno, si vedevano verdi campagne. Una ragione verde e piatta, tagliata da canaletti e da siepi di salici, che parevano mostri. Nani, tozzi, nodosi, coi rami sempre tagliati, che reggevano sul tronco enorme e corto un fremente piumetto di ramicelli. A destra, dietro alle scuderie, alle rimesse, a tutte le costruzioni della proprietà, cominciava il paese, ricco, popolato da allevatori di bovini. Pian piano, Renardet scese la scalinata, svoltò a sinistra, giungendo alla sponda del ruscello che cominciò a seguire a passi lenti, con le mani dietro la schiena. Camminava a fronte china, ogni tanto si guardava intorno per vedere se arrivasse qualcuno di coloro che aveva mandato a chiamare. Giunto che fu sotto gli alberi, si fermò, si tolse il cappello e si asciugò la fronte, come aveva fatto Mederic. L'ardente sole di luglio cadeva sulla terra come pioggia di fuoco. Poi riprese a camminare, si fermò di nuovo, tornò indietro. Improvvisamente, abbassandosi, inzuppò il fazzoletto nel ruscello che scorreva ai suoi piedi e se lo mise sul capo, sotto il cappello. Gocciole d'acqua gli colavano sulle tempie, sulle orecchie ancora violette, sul collo rosso e possente, e penetrarono, una dopo l'altra, sotto il colletto bianco della camicia. Siccome non si vedeva ancora nessuno, egli cominciò a battere col piede per terra e a gridare, uè, uè. Poi, sotto gli alberi, apparve il dottore. Era un ometto magro, ex chirurgo militare, stimato per molto bravo nella zona. Essendo stato ferito durante il servizio militare, zoppicava e si aiutava con un bastone per camminare. Poi si videro la guardia campestre e il segretario comunale, i quali, avvertiti nello stesso tempo, arrivarono insieme. I loro visi apparivano sgomenti, mentre essi accorrevano, alternando passo a trotto per sbrigarsi di più e muovendo talmente le braccia da sembrare di far più lavoro con quelle che con le gambe. Renardet disse al dottore, sapete di che si tratta? Sì, Mederic ha trovato nel bosco una bambina morta. Bene, allora andiamo. Cominciarono a camminare accanto, seguiti dagli altri due. Sui muschi i loro passi non facevano alcun rumore, con gli occhi essi cercavano davanti a sé. A un tratto il dottor Labarbe stese il brazzo. Ecco, eccola. Assai lontano, sotto gli alberi, si vedeva qualcosa di chiaro. Se non avessero saputo che era, non l'avrebbero potuto capire. Appariva lucente e bianco, come un lenzuolo caduto. Un raggio di sole scivolato attraverso i rami illuminava la carne pallida con una larga striscia che colpiva obliquemente il ventre. Avvicinandosi potevano distinguere le forme, il capo coperto rivolto verso l'acqua, le due braccia aperte come se l'avessero crocifissa. Sento un caldo tremendo, disse il sindaco. Chinandosi verso la brindil, inzuppa un'altra volta il fazzoletto nell'acqua e se lo rimise sulla fronte. Il medico affrettò il passo, interessato alla scoperta. Appena si trovò vicino al cadavere, si chinò per esaminarlo, senza toccare nulla. Si era messo un paio d'occhiali a stringi naso, come si fa quando si vuole guardare un oggetto strano, e girava pian piano intorno al corpo. Disse, senza nemmeno rialzarsi, violenza e assassinio, che ora constateremo subito. La bambina era già quasi donna, guardate il petto. I due seni, già assai sviluppati, si afflosciavano sul petto, resi molli dalla morte. Il dottore, con mossa leggera, levò il fazzoletto che copriva la faccia, la quale apparve nera, spaventosa, con la lingua fuori dalla bocca, gli occhi sbarrati. Perbacco, disse egli, l'hanno strozzata dopo aver fatto... palpava il collo, strozzata con le mani, senza lasciar trazza di nessun genere, né segni d'unghie o impronte di dita. Benissimo, era piccola Roc, proprio lei. Rimice delicatamente ha posto il fazzoletto. Non ho altro da fare qui, è morta da dodici ore almeno, bisogna avvertire il tribunale. Renardi, con le mani dietro la schiena, guardava fissamente il corpicino steso sull'erba. Mormorò, che miserabile, bisognerebbe trovare i vestiti. Il dottore stava tastando le mani, le braccia, le gambe. Disse, certamente aveva fatto il bagno, dovevano stare sulla riva. Il sindaco ordinò. Tu, principe, era il segretario comunale. Andrai a cercarmi quei vestiti lungo il ruscello. Tu, Maxime, era la guardia campestre, fai una corsa a Ruy Lethor a chiamare il giudice istruttore e i gendarmi. Bisogna che siano qui entro un'ora, hai capito? I due uomini si allontanarono svelti e Renardi disse al dottore, che sarà mai quella bestia che ha potuto fare una cosa simile in un paese come questo? Chi lo sa? Mormorò il dottore. Tutti possono averlo fatto. Tutti in particolare e nessuno in generale. Era stato qualche vagabondo, un disoccupato. Da quando siamo diventati una repubblica non si fa che incontrar di questa gente per le strade. Erano tutti e due buonapartisti. Sì, certo, riprese il sindaco. Non può essere stato altro che un estraneo, un passante, un vagabondo senza arte né parte. E senza donne, finì il dottore con una punta di ironia. Non avendo né da mangiare né da dormire, si è procurato il resto. Non si può dire quanti uomini vi siano sulla terra capaci di fare una cosa simile in certi momenti. Lo sapevate voi che la bambina era sparita? Sì, sua madre era venuta da me ieri sera verso le nove, perché la piccola non era tornata a casa all'ora di cena, le sette. Fino a mezzanotte l'abbiamo chiamata per tutte le strade, ma non abbiamo pensato al bosco. E poi si doveva aspettare il giorno per poterla cercare bene. Volete un sigaro? chiese il dottore. Grazie, non ho voglia di fumare. Mi fa effetto questo spettacolo. Stavano tutti e due davanti a quel fragile corpo d'adolescente, pallidissimo sul muschio scuro. Un moscone con la pancia turchina, che stava passeggiando su una coscia, si fermò sulle macchie di sangue. Poi risalì e percorrendo il fianco, con quella sua andatura vivace e scattante, si arrampicò su un seno, scese e andò a esplorare quell'altro, cercando qualcosa da bere sulla morta. I due uomini guardavano quel punto nero che si muoveva. Il dottore disse, quant'è graziosa una mosca sulla pelle? Le donne del secolo scorso avevano ragione ad applicarsene sul viso. Perché oggi non si usa più? Il sindaco pareva che non lo sentisse nemmeno, sperduto nei suoi pensieri. D'un tratto si voltò, sorpreso da un rumore. Una donna con la cuffia e il grembiule turchino stava correndo sotto gli alberi. Era la madre, la Roque. Appena ebbe visto Renardè, cominciò a urlare, la mia bimba, dov'è la mia bimba? Era tanto fuori di sé che non guardava nemmeno per terra. A un tratto la vide, si fermò subito, giunse le mani e levò le braccia, mandando un urlo acuto e straziante come un animale mutilato. Si slanciò verso il cadavere, cadde a ginocchioni e tolse come strappandolo il fazzoletto che copriva il volto. Non appena ebbe visto quell'orrendo volto, nero e contorto, si rizzò di scatto e poi si prostrò con la faccia a terra, zettando attraverso lo spessore del muschio grida spaventevoli senza mai fermarsi. Il suo gran corpo magro, sul quale le vesti parevano incollate, era scosso dalle convulsioni, palpitava. Si vedevano le caviglie ossute, i polpacci magri coperti di grosse calze turchine, tremare orrendamente. Scavava la terra con le dita adunche, come per farvi un buco e nascondervi, sì. Commosso, il medico mormorò, povera donna. Il ventre di Renardè mandò uno strano rumore e poi egli fece un forte starnuto che gli uscì insieme dal naso e dalla bocca e, tirando fuori di tasca il fazzoletto, cominciò a piangerci dentro, tossendosi, inghiozzando, soffiandosi rumorosamente il naso. Balbettava. «Ma, ma, ma, maledetto quel porco che l'ha ridotta in questo stato! Vorrei vederti tagliare il collo!» Riappari principe, col viso afflitto e le mani vuote. «Non sono riuscito a trovare nulla, signor sindaco», mormorò. «Non c'è nulla in nessun posto». L'altro, sgomento, gli rispose con una voce grassa e affogata nelle lacrime. «Che cosa non trovi?» «I panni della piccola!» «Cerca, cerca ancora! E se non li trovi, farai i conti con me!» Principe, ben sapendo che non si poteva opporsi al sindaco, si allontanò con passo scoraggiato, gettando di traverso sul cadavere un'occhiata timorosa. Si udivano sotto gli alberi voci lontane. Un confuso rumore, il rumore di una folla che si avvicinava. Mederich, nel suo giro, aveva seminato la notizia di porta in porta. I paesani, dapprima stupiti, avevano chiacchierato del fatto per la strada, sulle soglie. Poi si erano riuniti, avevano sensato, discusso, commentato l'accaduto per qualche minuto. E ora venivano a vedere. Ugevano a gruppi, un poco esitanti e inquieti per timore della prima impressione. Non appena ebbero visto il corpo, si fermarono, senza più coraggio di venire avanti, parlando sotto voce. Poi si fecero coraggio, fecero qualche passo. Si fermarono e avanzarono di nuovo. E presto formarono intorno alla morta, a sua madre, al dottore Arenardet, un circolo fitto, mosso e rumoroso, che si stringeva sotto la pressione dei nuovi venuti. Arrivarono a toccare il cadavere. Alcuni si abbassarono perfino a palparlo. Il medico li scostò. Ma il sindaco, uscendo improvvisamente dal suo torpore, si infuriò. Afferrando il bastone del dottor Labarbe, si gettò sui suoi amministratori balbettando. «Levatevi dai corbelli! Levatevi, massa di animali! Andatevene via!» In un attimo il cerchio dei curiosi si allargò di duecento metri. La rocca si era rialzata, rivoltata, seduta e ora piangeva col viso tra le mani. Nella folla si stava discutendo e avidi occhi di ragazzi frugavano quel giovane corpo scoperto. Arenardet se ne accorse e levandosi la larga giacca di tela la gettò sul corpo della fanciulletta, che vi sparì sotto. I curiosi si avvicinarono pian piano. Il bosco si empiva di gente. Un continuo rumore di voci saliva sotto il fitto fogliame dei grandi alberi. Il sindaco, in maniche di camicia e col bastone in mano, stava in atteggiamento combattivo. Pareva che la curiosità della gente lo facesse andare in bestia. Ripeteva «Se uno di voi si avvicina, gli spacco la testa come un cane!». I paesani avevano molta paura di lui e si tennero a distanza. Il dottor Labarbe, fumando, si sedette accanto al rock, parlandole, cercando di distrarla. Subito la donna si tolse le mani dalla faccia e rispose con un torrente di frasi lacrimose, vuotando il suo dolore nell'abbondanza delle parole. Raccontò tutta la sua vita, il suo matrimonio, la morte del suo marito, Andriano di Bovi, ucciso da una cornata, l'infanzia della figliuola, la sua miserabile esistenza di vedova priva di risorse, col carico di quella piccina. Aveva soltanto lei, la piccola rock, e gliela avevano ammazzata in quel bosco. Un tratto volle rivederla e, tracinandosi i ginocchioni fino al cadavere, sollevò la giacca che la copriva, poi la lasciò ricadere e si mise a urlare. La gente tacque, osservando con avidità tutti i gesti della madre. Ad un tratto ci fu un gran movimento e si sentì gridare «I gendarmi! I gendarmi!». Si vedevano lontano due gendarmi giungere di gran trotto, facendo da scorta al capitano e ad un omettino con le fedine rosse che ballava come una scimmia sopra un'alta giumenta bianca. La guardia campestre aveva trovato il signor Putoin, il giudice istruttore, proprio mentre stava per montare a cavallo per fare la sua passeggiata, poiché egli si atteggiava a bel cavaliere con gran divertimento degli ufficiali. Scese assieme al capitano, strinse la mano al sindaco e al dottore, dettando un'occhiata da faina sulla giacchetta di tela gonfiata dal corpo che vi giaceva sotto. Appena l'ebbero messo a conoscenza dei fatti, fece disperdere il pubblico. I gendarmi cacciarono la gente dal bosco, ma dall'altra parte del ruscello, sulla pianura, apparve ben presto una gran siepe di teste eccitate e irrequiete. A sua volta il medico fornì delle spiegazioni che Renardè scriveva con la matita sul suo tacquino. Furono fatte le constatazioni, registrate e commentate, senza che ne uscisse null'altro di nuovo. Anche Maxime era tornato, senza avere trovato traccia dei vestiti. Quella scomparsa sorprendeva tutti e non si poteva spiegare che con un furto, però siccome quegli stracci tutti insieme non valevano nemmeno una lira, anche il furto era inamissibile. Giudice istruttore, sindaco, capitano e dottore si erano messi a cercare a due a due, scostando perfino i più insignificanti ramoscelli lungo la riva. Renardè diceva al giudice, come può essere che quel miserabile abbia nascosto o portato via i vestiti lasciando il corpo così esposto alla vista di tutti? L'altro sornione perspicace rispose, forse è un'astuzia, questo delitto deve essere opere ad un brutto oppure ad un furbo di tre cotte, in ogni caso sapremo scoprirlo. Un rumore di ruote li fece voltare. Erano il sostituto del procuratore, il medico e il cancelliere del tribunale che stavano arrivando. Le ricerche furono riprese tra discussioni animate. Ad un tratto Renardè disse, restate tutti a desinare da me, è vero? Tutti accettarono con gran sorrisi e il giudice istruttore, pensando che per quella giornata saranno occupati anche troppo della piccola rocca, disse, volgendosi verso il sindaco, posso far portare il corpo in casa vostra? Avete una camera dove si possa tenerla fino a sera? Il sindaco, turbato e balbettante, rispose, sì, no, no, a dire la verità preferirei che non fosse portata a casa mia, per via, per via dei domestici che, che già parlano troppo dei fantasmi nella, nella torre della volpe. Sapete com'è? Se ne andrebbero via tutti. No, no, preferirei che non la portassero. Il magistrato sorrise. Va bene, va bene, la farò portare subito a Roi per l'esame legale, e volgendosi verso il sostituto. Posso adoperare la vostra carrozza, vero? Naturalmente. Tutti tornarono verso il cadavere. Ora la rocca, seduta accanto alla sua figliuola, la teneva per la mano, e guardava davanti a sé con aria sperduta e debete. I due medici tentavano di condurla via, perché non vedesse quando avrebbero portato via il corpo della bambina. Ma lei capì subito la loro intenzione, e buttandosi sul cadavere, lo abbracciò. Standovi sdraiata sopra, ella gridava, no, non portatela via, è mia, è mia, ora è mia. Me l'hanno ammazzata, e voglio tenermela io. Non ve la darò. Gli uomini, tratturbati e indecisi, le facevano cerchio attorno. Renardè si inginocchiò per parlarle. Statemi bene a sentire. Bisogna farlo per poter sapere chi l'ha ammazzata. Se no, non riusciremmo mai a saperlo. E bisogna cercarlo, invece, per poterlo castigare. Ve la ridaranno, non appena l'avremo trovato. Ve lo prometto. Questa promessa infiammò la donna, e fece brillare una luce d'odio nel suo sguardo smarrito. Allora, lo prenderete? disse. Sì, ve lo prometto. Lei si alzò, deciso ormai a lasciarli fare. Ma il capitano mormorò. È proprio strano che non si trovino i vestiti. Allora un'idea nuova, che ancora non l'aveva sfiorata, penetrò in quel suo cervello di contadina. Chiese. Dove sono i vestiti? Sono miei. Li voglio. Dove li avete messi? Le spiegarono come non si riuscisse a trovarli. E lei li reclamò con disperata ostinazione, piangendo e gemendo. Sono miei. Li voglio. Dove sono? Li voglio. Più tentavano di calmarla e più lei si inghozzava e si ostinava. Ora non voleva più il corpo, ma le vesti. Le vesti della sua figliuola. Forse sia per l'incosciente cupidigia della miserabile, per la quale un po' di denaro rappresentava già una fortuna, sia per l'affetto materno. E quando il piccolo corpo, arrotolato nelle coperte che erano state prese in casa di Renardet, fu messo nella carrozza, la donna, ritta sotto gli alberi, sostenuta dal sindaco e del capitano, gridava. Nulla, nulla, non ho potuto pigliare nulla, nulla, nemmeno la cuffiettina, la sua cuffiettina, nulla, nulla, nemmeno la cuffiettina. Era arrivato il parroco, un prete molto giovane, già grasso. Si incaricò di condur via la rocca e insieme se ne andarono verso il paese. Il dolore della madre si attenuava sotto le frasi mielate del prete che le prometteva mille compensi. Ma lei ripeteva, almeno avessi la cuffiettina, ostinandosi in quell'idea che ora predominava sulle altre. Di lontano Renardet gridava, signor curato, siete a mangiare da me fra un'ora. Il sacerdote voltò al capo e rispose, volentieri, signor sindaco, sarò da voi a mezzogiorno. Tutti si diressero verso la casa, di cui attraverso i rami già si poteva scorgere la grigia facciata e la gran torre piantata sulla riva della Brindill. Il desinare fu lungo. Si parlò del delitto. Tutti si trovavano d'accordo. Era stato commesso da qualche vagabondo che passava per caso mentre la bambina faceva il bagno. Poi i magistrati se ne riandarono a Roy annunciando che sarebbero tornati la mattina dopo, presto. Il dottore e il parroco rientrarono a casa loro e Renardet, dopo una lunga passeggiata attraverso i campi, tornò nel bosco dove rimase a passeggiare fino a notte, a passi lenti, con le mani dietro la schiena. Andò a letto molto presto e la mattina seguente ancora dormiva quando il giudice istruttore entrò nella sua camera. Questi si stropicciava le mani. Pareva contento. Disse, ahah, state ancora dormendo. Ma noi abbiamo delle novità stamani. Il sindaco si era seduto sul letto. Che c'è? Qualcosa di strano. Vi ricordate che ieri la madre voleva un ricordo della figliuola? Soprattutto una cuffietta. Ben stamani, mentre apriva la porta, ha trovato sulla soglia i due zoccoletti della bambina. Questo prova che il delitto è stato commesso da qualcuno del paese, che ha avuto pietà di lei. Inoltre il procaccia Medrick mi ha portato il ditale, il temperino e l'agoraio della morta. L'uomo, portando via i vestiti per nasconderli, ha fatto cadere questi oggetti che erano in tasca. Io trovo che è importante soprattutto il fatto degli zoccoli, che indica nell'assassino una certa cultura morale e una certa possibilità di commozione. Perciò, ora, se volete, passeremo in rivista i principali abitanti del paese. Il sindaco si era alzato. Suonò per farsi portare l'acqua calda per la barba. Disse, volentieri, ma sarà una cosa lunga. Perciò possiamo cominciare subito. Putuan si era seduto a cavalcione di una seggiola, continuando anche in casa con quella sua mania dell'equitazione. Renardé si stava coprendo il mento di scuma bianca, guardandosi nello specchio. Poi affilò il rasoio sulla coramella e seguitò. Il principale abitante di Carvelen si chiama Joseph Renardé, sindaco, ricco possidente, persona bisbetica che picchia le guardie ai cocchieri. Il giudice istruttore si mise a ridere. Basta, basta, andiamo pure avanti. Il secondo, in ordine di importanza, è Pelledente, primo assessore, allevatore di bovini. Anche lui, ricco possidente, contadino furbo e sornione, avvedutissimo in tutte le questioni di denaro, ma incapace, secondo me, di avere fatto una cosa simile. Andiamo avanti, disse Putuan. Renardé, sempre radendosi e lavandosi, continuò l'ispezione morale di tutti gli abitanti di Carvelen. Dopo due ore di discussione, i loro sospetti si fermarono su tre individui poco raccomandabili, un bracconiere che si chiamava Caval, un pescatore di trote e di gamberi che si chiamava Paquet e un conduttore di bovi che si chiamava Clovie. Grazie.